Ancora tre punti per l'Arezzo calcio femminile con una vittoria che potrebbe valere il campionato. Il gol arriva al ventiquattresimo grazie al rigore conquistato da Ceccarelli. Tiro dal dischetto di Orlandi, il portiere risponde con un'agile parata che però viene prontamente ribadita in rete sempre dalla centrocampista Amaranto. È 0-1 per l'Arezzo. In avvio di ripresa le Amaranto raddoppiano al settimo dopo una pregevole azione sulla fascia destra la palla termina nella lunetta dell'area di rigore. Orlandi la scaglia con forza all'incrocio dei pali e firma la doppietta. Il tris di Razzolini ancora dal dischetto. Il Pinerolo poi accorcia le distanze a due minuti dal termine con un rigore di Mellano. Ma nel recupero Paganini allunga di nuovo con il quarto rigore del match. Le piemontesi chiudono in dieci per l'espulsione di Ceppari. Adesso dunque i punti in vantaggio dell'Amaranto sulla seconda sono otto quando mancano nove giornate alla fine del campionato. L'obiettivo della società si sta dunque per concretizzare e la promozione dopo la vittoria di ieri è davvero ad un passo.